ciao ragazzi oggi stiamo provando e sperimentando questi nuovi corsi che andremo ad realizzare qui a Calori Group. Seguirci in questa puntata ci stiamo inventando qualche cosa allora io volevo parlare un attimo con voi ma di che cosa vorrei parlare con voi? Vorrei parlare che il mondo sta cambiando e dobbiamo imparare a fare delle cose nuove. Io personalmente sto registrando vari corsi di formazione quello personale è l'ambito della come sapete tutti nell'allungamento dei capelli, corso base, intermedio e voluto. Ma non per questo che vorrei lo stradpotere della formazione solamente nell'allungamento dei capelli ma identificare nel mercato delle persone che hanno qualcosa da raccontare mi fa molto dolce. In questo momento il carissimo amico Torres che verrà qui a Roma per realizzare questo corso Evolution e quindi sto aspettando l'intervista che ho richiesto a Duilio ma Duilio in questo momento è impegnatissimo però non del mordo per intervistarlo e questa è una delle tante puntate per iniziare a parlare. Abbiamo questa scenografia che è spettacolare, abbiamo un collage di varie parole chiave che mi accompagnano da molto tempo e quindi abbiamo creato il set per girare questo grandioso film che si chiama vita e mescolando un po' di gossip, un po' di tecnica, un po' di filosofia proprio perché per essere diversi e unici. Se riuscirò nell'intento sarò un campione, se non ci riuscirò non fa niente perché io ripeterò nuovamente quello che io credo. Perché la cosa importante anche se le cose noi facciamo e non vanno non è detto che è brutto, è detto che ogni tanto premiamo e poi ripartiamo. Quindi io personalmente sto ripartendo con questa comunicazione online di moda, tendenza e creatività che è già tutto scritto, è solamente da creare questi benedetti contenuti per creare entusiasmo in quello che vogliamo fare nella vita. Allora sono molto contento che sto realizzando questa cosa per me e per voi e ci vediamo le prossime volte. Ciao